Ecco, è terminata la gara 6 a 2 a favore della Virtus Castelfrentano sul campo delle giovanili il primo tempo è terminato uno pari ecco i nostri, si salutano i calciatori bravi ragazzi è terminata la gara 6 a 2 a favore della Virtus Castelfrentano dopo un primo tempo opaco, opaco nel senso che potevamo realizzare più reti, avevamo il vento a favore all'intervallo sicuramente Mr. Gabriele ha strigliato a dovere i ragazzi in quanto il secondo tempo sono rientrati più grintosi e determinati dal campo di rugby di Brecciarola vi saluto